Punta Contessa Punta Contessa si trova sulla costa occidentale del paese di Santa Teresa di Gallura ed offre una delle più belle escursioni subacquee della zona. Il punto di immersione è molto vicino alla riva e appena si scende il paesaggio appare subito in tutta la sua bellezza. Pinnacoli e formazioni granitiche accolgono il subacqueo regalando un paesaggio unico. Sulla parte occidentale della punta si raggiungono rapidamente i meno 35 metri. Anche qui, come del resto in altri punti di immersione intorno a Capotesta, dal fondale si innalzano bellissime formazioni rocciose, alcune delle quali arrivano a pochi metri dalla superficie. La conformazione dei fondali è costituita in larga parte da numerose cavità formate dagli interspazi delle masse granitiche che spesso creano angusti passaggi difficili da attraversare ma che regalano scorci sottomarini unici. Sui versanti rocciosi più esposti a nord, la vita bentonica è molto ricca e si possono incontrare quasi tutte le specie tipiche di queste zone. Nella parte più profonda dell'immersione, sotto alle volte di alcune formazioni di granito, si possono ammirare bellissime colonie di corallo rosso. Si tratta dell'unica specie del genere corallium che popola i nostri mari, anche se sempre più rara. Necessita infatti di condizioni di vita particolari, dal tipo di salinità e di movimento dell'acqua ad un'illuminazione attenuata. Anche il tasso di sedimenti in sospensione nell'acqua, se troppo elevato, ne limita la sopravvivenza. Punta Contessa rappresenta senz'altro un sito di immersione da non perdere per gli appassionati di subacquea. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.